Allora ragazzi, come promesso, sono quasi per arrivare a 30.000 fan, quindi sto provando a chiamare il ristorante di Cracopo per esercire al posto su fine settimana, così siamo a provare la pizza, se non è buono, ma ci faccio un gatto, come promesso. Guarda, facciamo, no? Ragazzi, ho tempo lungo, scusate, però è il quarantesimo squillo che sta facendo, perché nel 5 piano, il telefono sarà un pianore sotto nella scena. La prima volta che ti giuro mi capita che non c'è spazio andato, sarà a Milano, e poi mi ho sbagliato pure l'ora, sarà l'è l'una, l'abbiamo provato, probabilmente mi ho sbagliato orario, perché abbiamo chiamato, che era solito, l'una e 5, a Milano, l'una e 5, forse già hanno finito le mancia, quindi mi ha chiamato orario più milanesi, o la mattina presto, o un pomeriggio sempre presto, quindi, da poco. Ragazzi, sto riprovando a chiamare Cracopo, vediamo se stavate mi rispondo. Ma secondo voi dopo 45 squilli, attacco o aspetto? Stop a mano, all'infinito ha già fatto una, all'infinito, fino a quando non rispondo. Da scuilla all'infinito, non attacco, già sta qua, se la stasera. Ciao Valeria, sono il temerario, volevo sapere, sarà possibile prenotare per fine settimana? Per fine settimana, certo, è possibile, ma a lugno. A lugno, ma non si può fare questo fine settimana, cioè... No, iniziale. Pure se io vengo in seconda serata, cioè, essendo del sud, pure a mezzanotte, va bene? Cioè, come secondo ingresso. Ma mi dispiace. Mi dispiace. No. Il tutto disponibile che ho, la sera, è il 3 aprile. 3 aprile? Ah, è subito dopo Pasquetta, però, non so se... Cioè, sarebbe il martedì, dopo Pasquetta, a pranzo. Eh, no, non penso, perché quello sicuro a Pasquetta, chissà che conviene. Fate pure le pizze, giusto? Allora, la pizza si fa solo al bistro e non prendiamo prenotazioni per il bistro. Ah, ok. Perché stavo chiamando proprio per la pizzeria. Però, pizze da sporto, le fate? No, mi dispiace. Ah, io. Non c'è pure la pizzeria. Eh, no, perché... Ah, ok, no, no, perché siamo... Solo due pizzeri e un'altra. Ma, in generale, quante pizze avete? Perché siamo un bel gruppo. Voi si spiega il motivo perché le pizze sono così. Perché non sono una pizzeria, capite? Cioè, direi un concetto base, non sono una pizzeria. Però fanno pizze. Vabbè. Vabbè, non fa niente, non ci arrangiamo. Ciao, ciao, ciao. Ce l'hanno fatta, quindi posso salire quando voglio e mi va a mangiare la pizza. Se non è buona, mangi a spaccangare. Ti hai già trovato, Gracco, ti hai già trovato.